Guido Boella, buongiorno e benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per ascoltare le sue parole sull'intelligenza artificiale. Noi ci eravamo trovati qua tempo fa a ragionare sulla CHAP GPT Promesse Illusioni, mentre adesso andiamo a raccontare di qualcosa che è sicuramente un passo avanti. Magia, l'intelligenza artificiale spiegata, spiegata bene. Guido Boella è qui per spiegarci bene questa intelligenza artificiale che è più di quello che appare. Tutto questo succede domani, venerdì 17 maggio, le OGR Turino dalle 16 alle 20. Ricordo tra l'altro che ormai è tutto esaurito e però si può seguire in streaming. Guido Boella, il lancio del magazine intelligenza artificiale Magia ormai è a un passo e per i nostri ascoltatori del podcast che cosa racconta Magia? Allora, siamo arrivati di nuovo al momento giusto perché un paio di giorni fa è stato presentato CHAP GPT 4 Omni che nelle parole del suo creatore Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI è magico, dice in un quit. Così come Sundar Pichai, CEO di Google, dice oggi che ci si potrebbe quasi innamorare di un'AI generativa. E quindi siamo arrivati nel momento in cui è meglio far prendere coscienza a largo pubblico delle problematiche dietro queste affermazioni. Perché è vero che sono tecnologie davvero stupefacenti, a un anno e mezzo dalla nascita sono ancora andate molto più avanti di quel che ci si aspettava con l'integrazione di immagini, foto, video, con il testo. Si può andare in giro con la fotocamera, videocamera e il telefonino e chiedere informazioni su quello che ci sta, quello che vede questa AI generativa collegata al telefonino. Guarda inquadrare una lavagna con le formule e chiedere delle spiegazioni, delle correzioni. Però allo stesso tempo non bisogna dimenticare che l'AI non è solo una tecnologia ma è parte di un sistema economico, politico, sociale, sono in ballo interessi enormi e come tutte le cose umane bisogna quindi andare a guardare più nel dettaglio. Questo è lo scopo di Magia, o meglio Magazine Intelligenza Artificiale, che vuole essere una rivista scientifica ma vuole essere un luogo in cui tutti, i cittadini, i diversi stakeholder, da voi giornalisti a imprenditori, policy maker e così via, possono approfondire con l'aiuto di esperti in una prospettiva pluralistica le diverse tante tematiche che riguardano l'intelligenza artificiale dal punto di vista dell'impatto che sta avendo sulla società. Questa rivista internetica la possiamo trovare su magia.news e devo dire che gli spunti di riflessione scorrendo la vostra pagina di Magia, Mag, Intelligenza Artificiale, è veramente molto corposo, quindi c'è una redazione dietro, c'è un pensiero, c'è un'attività e c'è anche un forte confronto, mi sembra di capire. Sì, abbiamo una redazione ben rodata perché si vede guardando indietro nel tempo che ci stiamo lavorando da parecchi mesi e oltre alla redazione che si occupa di raccogliere e pubblicare notizie, fare una sorta di rassegna stampa commentata, abbiamo una rete di decine in crescita di collaboratori dal mondo dell'università ma anche dal mondo del giornalismo, delle imprese e vedremo via via nuovi collaboratori interessanti comparire nei prossimi mesi e che danno appunto una prospettiva molto interdisciplinare e molto pluralista adattando il proprio linguaggio, nel caso di noi accademici, alle esigenze del grande pubblico. Quindi dagli accademici al grande pubblico, perché questo sito, lo vorrei ricordare, non è un sito riservato a coloro che sanno, tanto per capirci, ma a coloro che non sanno e vogliono capire, vogliono avere la curiosità, l'antica curiositas verso questa straordinaria modernità contemporaneità, anzi verso questo straordinario futuro, che è l'intelligenza artificiale che sempre più ci attraversa e avrete ospiti importanti nell'incontro dell'intelligenza artificiale più di quello che appare per il lancio del magazine I.A. Abbiamo per esempio il sociologo australiano Anthony Elliot, che cosa racconterà Elliot? E parlerà dell'intrusione dell'AI e del digitale nella nostra intimità, nel senso anche di amicizia, di rapporti con le altre persone, fino alle app di dating, facendo vedere come stia cambiando le relazioni, le aspettative che hanno le persone una rispetto all'altra. Questo è uno dei tanti temi che andiamo a affrontare nel magazine. Ed è anche uno dei temi, forse, che l'intelligenza artificiale stravolgerà anche molte relazioni. Oggi siamo abituati a una velocità già elevata e con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, in quello a cui lei faceva riferimento, nei rapporti personali, forse questo è qualcosa che forse nemmeno riusciamo a pensare. Come riuscirà a tessere nuovi rapporti? Esatto. Ci troviamo di fronte a un compromesso. Da un lato la possibilità di aumentare il nostro numero di relazioni che possiamo avere in contemporanea, liberandoci dal vincolo della fisicità, andando a automatizzare non solo la scelta, ma in futuro anche la parte della conversazione con le altre persone. Dall'altra però ci troviamo il limite di essere costretti a delegare a delle macchine che comunque partono da dati che hanno in qualche modo espropriato dagli interlocutori e viaggiano con una propria autonomia che poi è il riflesso di com'è la realtà oggi con tutti i suoi limiti, tutti i bias, i pregiudizi che gli algoritmi di machine learning che sono dietro le AI imparano quando appunto sono addestrati sui dati, quindi con il rischio che si vadano ad aumentare, ad amplificare nel momento in cui un'app di dating decide di far presentare due persone in base a degli stereotipi che ha preso analizzati i dati. Tra l'altro qui proprio vedendo i temi su cui voi ponete l'attenzione c'è il tema non tanto dell'intelligenza artificiale quanto anche sulla coscienza artificiale perché se esiste un'intelligenza deve necessariamente esistere anche una coscienza. Sì, salvo che forse non esista l'intelligenza, quindi il discorso della coscienza può essere rimandato diciamo almeno per ora. Non esiste intelligenza perché l'intelligenza, ci dice la scienza cognitiva negli ultimi decenni, si riconosce che è sempre più legata alla nostra corporeità, ai nostri sensi, alla nostra capacità di muoversi nel mondo, alle emozioni che proviamo anche attraverso il nostro corpo e che andiamo a esprimere nel nostro corpo e poi appunto la coscienza, qualsiasi cosa sia. Non ne sappiamo tanto, i filosofi e scienziati non hanno ancora visioni molto comuni e unitarie sul problema. E forse Guido Boile, scusi, però la visione unitaria del problema sulla parola coscienza credo che sia impossibile, ma c'è necessità secondo lei, lei non è un filosofo ma in ogni modo, ma c'è necessità secondo lei anche da parte della filosofia degli intellettuali di ristudiare un po' tutte quante le loro posizioni alla luce di questo cambiamento che è sicuramente stravolgente nel bene e a volte anche nel male necessariamente. Sì, assolutamente e c'è pure il fatto che questi strumenti di AI generativa possono diventare anche uno strumento stesso per lo studio, per fare l'indagine filosofica ma anche scientifica. Per esempio i Large Language Model, che sono i motori dietro lo chat GPT, Gemini, Cloud, Mistral, eccetera, contengono così tanta conoscenza sulle proprietà statistiche del linguaggio che stanno cominciando a essere usati per esplorare in maniera diversa il linguaggio con una prospettiva molto più ampia, mentre prima ci si basava sulle regole grammaticali, soggetto, verbo, predicato, eccetera, che quindi hanno un livello estremamente locale. Questi Large Language Model che sono stati addestrati su tutti i testi, in tutte le lingue, che prendono in input ormai anche un milione di parole, permettono di studiare il linguaggio, i fenomeni, la frequenza delle parole con una prospettiva molto più ampia e mai vista prima. Sì, anche perché bisogna avere veramente la parte nostra, il senso della curiosità rispetto a questo e non semplicemente lasciarsi guidare da un titolo di giornale, ma andare a leggere, cercare se non di avvicinarci, di comprendere Guido Gboella, ma almeno di avvicinarci per la comprensione, perché questo è un terreno molto infido, credo, vero? Sì, assolutamente, infido, complicato, in cui nessuno ha ancora delle verità stabilite e soprattutto molto caratterizzato dal marketing, dall'imposizione di narrative che vogliono ottenere diversi scopi, non solo quello di vendere di più il prodotto, ma anche quello di deresponsabilizzare chi l'ha fatto, perché più il prodotto sembra, viene percepito come intelligente, autonomo, più chi l'ha fatto, il produttore, viene deresponsabilizzato rispetto ai problemi che può causare, dalla disinformazione, l'aumento delle disuguaglianze, l'amplificazione dei baia. E che cosa vi aspettate dal lancio di domani a livello di risposta proprio di curiosità, ripeto questa parola, e di conoscenza rispetto all'AI? Speriamo di riuscire ad avere un impatto sul discorso pubblico, andando a far vedere quali sono le diverse tematiche, al di là delle notizie che compaiono quotidianamente, che sono in parte guidate anche da esigenze di marketing di questi grandi player, di raccogliere anche interesse da parte di ulteriori contributori, cioè quelli che fanno la rete di persone che sta facendo approfondimenti, in modo da avere ancora più prospettive. E poi ovviamente speriamo di avere più iscritti anche per la newsletter, che mandiamo per ora ogni 15 giorni. E per la newsletter bisogna andare nel sito magia.news e poi iscriversi per la newsletter oppure collegarsi domani venerdì 17 per l'incontro alle OGR di Torino per l'intelligenza artificiale che è molto di più di quello che appare. E quindi, a proposito di filosofia, qui l'apparire, la rappresentazione e la rappresentazione del vero e il reale, veramente qui la filosofia e non solo la filosofia, hanno veramente un campo larghissimo su cui confrontarsi. Ma prima di salutarci, Guido Boella, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro sull'AI, in questo momento sto leggendo onestamente quello di Anthony Elliot, Algorithmic Intimacy, che speriamo presto di avere anche in italiano. Grazie davvero e buon lavoro, Guido Boella. Grazie a lei.